Ciao, eccomi qui, indovina dove sono? In aeroporto! C'è qualcuno che mi ha detto, ormai fai i video quasi sempre solo dall'aeroporto, è vero, è vero, lo ammetto. Ma sai cos'è? È che il viaggio è veramente qualcosa che stimola, stimola la creatività, stimola la crescita, stimola tutto. Per me è veramente fondamentale perché nel momento in cui tu ti muovi, muovi l'energia dentro di te, attorno a te, e nascono anche nuove idee perché comunque tu ti trovi in nuove situazioni, in nuovi luoghi. Adesso sto semplicemente andando in Italia o venendo secondo di dove tu ti trovi perché domani sera sarò in un ritiro yoga con 150 persone per tenere un workshop e sono molto contenta di incontrare questo gruppo di persone perché sarà sicuramente qualcosa di meraviglioso anche perché saremo in montagna e faremo un lavoro di connessione al divino molto 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 potente. Quindi questo luogo sicuramente ci aiuterà ad entrare ancora più fortemente in connessione con noi stessi e con l'energia divina. Ti farò sapere come va, intanto ti mando un abbraccio e ti auguro un pomeriggio meraviglioso, pieno di gioia e di luce. Ricordati sempre, sempre, sempre di trovare nuovi stimoli perché la vita va stimolata e se tu ti senti un po' in down, se tu ti senti un po' troppo tranquillo a livello energetico, dai una botta di energia muovendo il tuo corpo, spostandoti e andandoli a visitare nuovi luoghi. Ciao ciao! Ciao! Ciao!